HIGH METAL HIGH METAL L'album uscirà il 22 gennaio e il singolo in questione è chiamato Mystery of a Brrrrrrrr L'album uscirà agli inizi del 2016 ed è stato registrato a Roma presso gli studi Kick Cellar Eh sì ciao Kick Records L'album è stato registrato a... Eh ma un po'... L'album... Causa... Calma... È difficile oggi, non so perché oggi è difficile L'album in questione ha assicurato agli Slipknot una nomination come Best Band Porca P***a Best Tua Madre Conterrà le registrazioni al Vaken Open Air 2015 e al Sabato... E al Sabato non sabato... Sabato Open Air, sì perché lo fanno di sabato Bene, anche questa puntata di met... La 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 la... Yes baby! Yes baby! Yes! Yes! E al final l' completed avanti... Eish rizzare a fire sul Ecco della Yeah measurements Rsto rubare solo... Esquerda, io penso dieci... Ecco della Musick B